ciao a tutti una location un po diversa stavolta qua sono sabato sto facendomi un girettino su nell'apennino tra reggio e lucca quindi sono a passo prada arena un passo molto bello spero che l'audio si senta è tutto un po nuovo ma vabbè cosa devo dirvi abbiamo passato i 30 mila chilometri sono 30.500 intendo allora io penso che sarà probabilmente l'ultima volta che faccio questa situazione anche perché puoi dire ormai non c'è nulla da dire cosa cosa è successo alla meteora in questi ultimi chilometri ultimi 5 mila chilometri assolutamente nulla stata fatta tagliando dei 25 mila cambiando la catena già tutta la trasmissione finale probabilmente mi sembra un pelino più rumorosa ma probabilmente è la qualità diciamo dei componenti altro non so adesso tagliando i 30 mila l'ho fatto per conto mio devo ancora fare la regolazione delle valvole perché è un lavoro un po lungo quindi ci metto un po di più e sinceramente a casa c'è un caldo terribile quindi la sera hanno tanta voglia di mettermi a fare queste cose smontare mezza moto per arrivare le valvole che forse sono veramente l'unica cosa negativa di questo motore per come la vedo io motore con i famosi soli 20 cavalli che fa tutto quello che si vuole si va veramente bene motore pastoso francamente non 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 lo cambierei con un altro ogni tanto mi viene in mente qualcos'altro ecco che passa una moto verrebbe in mente di cambiarlo con qualcos'altro ma semplicemente per la posizione di guida magari che sui tracetti un pochino lunghi a volte tendo ad ingobbirmi per posizione mia sbagliata e invece magari fosse un po più caricato sui gomiti forse mi ingobbirei anderei a ingobbirmi un po meno per cui a volte mi viene un po mal di schiena per questa cosa e allora a volte dico ma chissà poi in realtà sento sto motore e non mi viene voglia di cambiarlo con qualcos'altro non mi non mi tentano più di tanto le altre cose ho fatto il tagliando dicevo cambiato olio cambiato anche il filtro dell'aria sono acquisti ho preso il materiale online in un negozio molto ben conosciuto perché un negozio fisico di milano concessionario royal di milano quindi è conosciutissimo ma il comodo è con l'e-commerce ti fai mandare tutta a casa e fai tutto senza nessun problema l'idea di cambiare gli ammortizzatori mi è passata perché ho maturato il concetto che effettivamente è una geometria questa delle moto classiche che più di tanto non ci fai e per avere un miglioramento sicuramente puoi avere degli ammortizzatori migliori ma dovresti andare su della roba da tanti soldi 700 800 900 e non hai la sicurezza che questo poi renda la moto più più confortevole alle buche è fatta così se si vuole una moto non classica cioè se uno va bene una moto non classico non indurre eccetera con il moto ammortizzatore e i leveraggi progressivi sicuramente è molto meglio cambiare solo l'ammortizzatore in una moto di questo tipo voglio dire una moto economica se cominciano a spendere delle bidonate di soldi per metterla a posto a questo punto ne compro una da 10 mila euro dell'avance a posto quindi questo è un po in realtà invece mi piace mi piace tanto e molto veramente tanto 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 niente io ripeto non c'è nulla da dire la moto va bene problemi non ne da la media da quando l'ho comprata vi ricordo l'ho comprata a comprai a novembre del 2021 quindi sono due anni quasi tre anni quasi e 30 mila e 500 chilometri la mia media personale è calcolata sapete che ho un foglio excel ci tengo dietro quindi ve la do per per certa 34,2 chilometri con litro poi ci sono le volte che faccio 36 37 come ultimamente perché magari viaggio più tranquillo perché per tanti motivi e altre volte che invece faccio magari 31 32 30 magari faccio della ok passano colleghi 32 30 31 30 perché magari faccio tanta autostrada e quindi si fa magari un viaggio si va un po in là quando sono andato nelle marche fino ad ancona sono andato in autostrada ovviamente anzi fino all'oretto sono andato in autostrada quindi quanti fai 200 e rotti chilometri o quasi 300 di autostrada sempre più o meno ai 100 all'ora 100 110 su in due carico ai 30 con un litro beh insomma non credo che ci sia da lamentarsi però non fai 34 ovviamente bene cosa vi devo dire che me la godo sempre di più non è più una novità non è più una cosa strana cosa nuova ne hanno vendute tante adesso vendono più altri tipi di motocicletta io vi posso dire ci si viaggia tranquillamente ci si viaggia in due adesso qui vedete le borse quelle più piccoline però anche con le borse grandi ho fatto molto campeggio con mia moglie chiaramente un weekend insomma che puoi caricare il mondo ma anche in una moto normale non può caricare il mondo vai più piano degli altri quando ti trovi sui famosi passi il muraglione guarda tutti come fossi un scemo perché non hai non hai almeno mille cavalli no scherzo mille cc e 100 cavalli almeno però poi alla fine ci arrivi anche tu e ci arrivi tranquillo poi ci arrivano anche le vespe 125 primavera quindi se ci arrivano quelle ci arriviamo anche noi quindi cosa devo dire ripeto è un modo di viaggiare molto molto bello a piace tanto girare con questa moto anche andarci a lavorare ma il commuting urbano è ovvio una moto semplice non leggerissima comunque molto agile problemi non te ne dà ma se qualcuno dei problemi per viaggiare ma con cesare qualcuno ha scritto cosa come faccio ma su in due con mia moglie magari in montagna su in due con mia moglie in montagna si va su anche per il 16 20 per cento di salita chiaro che ci dire nella seconda ci tira prima è ovvio ripeto come ho detto anche altre volte la potenza è quella però te la da fuori in un modo fantastico quindi il proprio il gusto la pastosità tra volte mi stupisco non perde mai un colpo esci dai tornanti io quando avevo le moto carburatore soprattutto la guzzi per esempio ma anche con la vespa delle volte in salita magari si ingolfava un attimo perché magari io effettivamente tendo a tenere un po le marce basse e magari in uscita aprivi si impuntava un attimo e non è bello quando sei sbilanciato questa non si impunta mai questa è sempre apri pim pum pam quattro scoppi quattro calci dentro e si muove quindi ripeto per me è eccezionale la carichi con tutto il peso che vuoi perché una volta ci sono sopra io che faccio 90 kg mia moglie che non ne fa più di 25 ovviamente visto che probabilmente guarderà questo video però insomma borse valigie tende tutto quello che vuoi va su va su tutto 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 va su viene giù anche tranquillamente le cose più importanti alla fine sono per una moto di questo tipo sono le gomme delle buone gomme io ho rimesso sulle roadster 01 della messler e qui è rimasto molto molto contento e quindi le ho messe su olio mai fagli mancare dell'olio io tra l'altro utilizzo un cento per cento sintetico perché preferisco adesso che mi faccia manutenzione io che ho cominciato a fare manutenzione io il cambio olio lo faccio con un cento per cento sintetico olio alte prestazioni tutte queste storie qua perché non spido occhio sull'olio tanto per capirci ce ne sta a meno di due litri voglio dire se risparmi cinque euro a comprarne uno semi sintetico non mi interessa interessa molto di più che sia lubrificata bene e che non ci siano tanti residui carboniosi altre cose il resto vi ricordo è tutta originale catalizzata la parte diciamo le personalizzazioni su tutti di carrozzeria riguardano tutti portapacchi porta targa queste robe qua ma il motore è tutto originale il filtro l'ho cambiato ripeto filtro aria e gli ho messo su di nuovo il filtro originale tanto alla fine ho visto questi filtri super aperti cosa devo dire il risparmio non glielo vedo perché costano tanto e siano rigenerabili sì è vero ma il filtro normale costa 20 cosa costa una roba del genere mi ricordo se 15 20 25 facciamo 25 euro poche parole te ne compri quattro prima di arrivare a spendere quello che compri con uno di quelli rigenerabili che comunque devi comprare anche i liquidi da rigenerare te ne danno un po a cui devi rigenerare devi comprarti anche il coperchio tra l'altro il coperchietto è aperto c'è un foro in mezzo è ovvio che passa più aria è normale vuoi far passare più aria col filtro normale che ha su un prendi il coperchietto e lo fuori in mezzo e ci passa più aria quindi io l'ho tenuto tutto regolare tutto normale secondo me sta moto è perfetta così io vi saluto caramente stavolta la terriamo un pochino più breve del solito perché sono un chiacchierone e buone vacanze a tutti perché questo viene fatto subito prima delle vacanze quindi buone vacanze a tutti che sono in moto che siano come vi pare divertitevi andate piano e basta così e viva le royale Grazie a tutti